E' stato per quasi 200 giovani un modo diverso di passare le vacanze scolastiche, essere allenati da due campioni italiani che hanno scritto pagine di storia del nostro calcio. L'iniziativa è dell'Associazione Sportiva Roma e di Genova International, una scuola calcio attiva tra Liguria e Piemonte, diretta da un australiano di origine italiana che ha giocato a lungo in Europa nei campionati professionistici. I ragazzi, un bel ricordo, bellissimo ricordo che sono stati allenati dai campioni, hanno avuto un sapore del calcio vero, come va giocato, come va interpretato. E' stato dimostrato qua sui campi dei miglioramenti che i ragazzi hanno fatto negli ultimi 15 giorni. Da queste parti il calcio fatica a imporsi come sport nazionale. Il settore giovanile qui è trascurato e soprattutto mancano i maestri. I ragazzi sono stati seguiti da Giuseppe Sabadini, che ha brillato come terzino nel Milan, ha vestito in quattro occasioni la maglia della nazionale ed è stato convocato ai mondiali di Germania 74. E Maurizio Ramon-Turone, che ha indossato le maglie di Genoa, Milan e Roma e giocato oltre dieci anni in Serie A. Non solo, il progetto ha avuto successo, verrà ripetuto a gennaio e la Roma ha intenzione di diventare in Australia un punto di riferimento fisso per chi aspiri a diventare calciatore professionista. Le squadre dovevano puntare tutto sul stagione per un semplice fatto che creare e far crescere i ragazzi in casa costano molto meno e oltretutto rimangono anche molto più attaccati alla maglia. La Roma ha aderito a questo progetto perché è un progetto che sicuramente per conto mio avrà dei frutti, non certamente oggi o domani ma nel tempo, perché siccome la Roma ha intenzione di rimanere qui nel tempo, per molto tempo, quindi sicuramente uscerà poi qualcosa.